Divertite anche voi! Daguschein Brudolf in Schwestern von Torsen ok? perché so che venite da tutte le parti insomma non solamente da questa bella città che è... Dusseldorf evitatemi l'altra volta che ci torniamo a suonare più che ora lei una volta si organizziamo tra un po' questo anno il tour è quasi finito fra tre concerti abbiamo finito poi ci fermiamo un attimo a così a rinfrescarci le idee intanto grazie di essere venuti auguro a tutti voi, ai vostri amici, alle vostre famiglie uno splendido 2016 che è cominciato da poco e voglio augurarvelo con questa canzone che facciamo adesso che... che sia di buono ausficio di come si dice buona fortuna in tedesco c'è un po' feel good è difficile gluck a gluck come il ragazzo della mia gluck ah è fantastico si il fan da mio re maggiore è re maggiore no? questa è la storia questa è la storia di un altro di noi anche io è nato per caso mi altro in una casa fuori città gente tranquilla gente tranquilla che la non erava la dove c'era la paura c'è tu sei donna io è in cui i miei la prima li mi fa ridere molto, questa è un omaggio al più grande di tutti, il mio mio obiettivo, Adriano, che ha fatto gli anni sezionale, non mi fa ridere perché Garrett non sa chi è Adriano sezionale, quindi lui la suona come fosse un pezzo di Bob Marley. Secondo me Adriano piacerebbe un sacco così. Vediamo se la sapete, vediamo se la sapete, vediamo se la sapete. Avuto, 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 avuto. è un giorno feriale questi ragazzi sono in Germania poi lavorano tutti tantissimo lo sai che voi la mattina qua proprio vi svegliate presto non possiamo farvi fare tardi perché possiamo farvi fare una settimana ok torniamo però non era male non mi mettete su YouTube che non avevamo fatto male non mi fate questa promessa non mi taggate se no poi si prendono no, fate quello che cazzo mi fanno ok e adesso vi dicevo che questa è un giorno feriale è un giorno feriale Grazie.